Nonno, che cos'è questa targa? Se l'hai un po' di immaginazione, allora chiudi gli occhi. Qui è incominciata la storia. Grazie a tutti. Mi va a ridenumire ancora Gigi Riva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi vive in un'isola viaggia per mare e chi viaggia per mare ha sempre un'arriva da cui partire, un'arriva in cui arrivare, un'arriva in cui tornare. E ripartire ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.